ciao stelline, come state? spero bene allora in questo video come state vedendo vorrei utilizzare queste palline all'interno di questo contenitore per fare qualche suono so benissimo che non siete amanti dei not-talking e neanche io in verità non li amo particolarmente a parte ogni tanto che li uso come sottofondo mentre studio o mentre sto al computer quindi ho pensato di fare un po' di close up o whispering per arricchire un po' il video quindi queste sono queste sfere sono troppo carine vedete? sono di diverse misure, dipende da quanto liquido abbiamo assorbito e i suoni che faremo oggi cioè mi proverò a schiacciarle per vedere che suono producono allora questo lo mettiamo qui e prendo questo contenitore di litro e poi prendo un cucchiaino prendo un cucchiaino e verso un po' di queste sfere qui dentro ok 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 Grazie. Grazie. Ora con una forchetta proverò a schiacciarne qualcuno per vedere un po' che solo produce. Mi piace tantissimo questo suo. Questo contentore io l'ho acquistato dai decennizi e si trova di diverse. Profumazioni. Questo non ho ben capito che profumazione è però. Sa molto di pulito ecco. Poi quando si schiacciano si sbrigiono ancora di più. Lo provo. Ne prendiamo un altro po'. Quelle più piccoli hanno più difficoltà a roppersi. Noi. 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 Sto registrando il poveriggio. Ti spero. Spero tantissimo che non sentiate errori esterni. Noi. 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 Sì. Noi. Io non amo questa profumazione sinceramente forse perché è molto molto forte. e comunque nel mio parattolo ne sono contenute tantissime e in più le sto rompendo quindi si sta spregionando tutto vedete alcune sono più grandi sono bellissime però sembrano tanti mezzettini dietro avrei potuto provare ad acquistarne di a più colori diversi per vedere l'effetto di porco paleno comunque alcuni sono tipo turchesi celesti e altri più blu le misure sono diverse comunque sono davvero molto felice di registrare un video che probabilmente spero riesca a registrare più tardi e ho già comprato anche le varie cosine che mi serviranno che userò tutto nel video e si tratta di un roleplay e ci tengo tantissimo spero davvero che impegna bene mi sto tenendo voglia di andare a fare guardando questi colori ecco qua molte cose che con quei cinesi mi sono proprio di ispirazione ultimamente io mi diverto tantissimo ad andare appunto nei negozi di cinesi perchè vendono tantissime cosine che mi sono come stavo dicendo di ispirazione o mi sono utili per i video per esempio questa tovaglietta che vedete questa qui bianca questa tovaglietta l'ho presa sia bianca che è nera e appunto mi serve quando devo fare cose del genere per non sporcare la scrivania oppure per esempio nel roleplay che dovrò registrare nel roleplay che dovrò registrare più tardi ma mi sa che mi servirà la tovaglietta nera con un tabello il tapping sul vidro con un tabello il tapping sul vidro a Grazie. Questo diciamo che è un video bonus, volevo fare questo esperimento e ho pensato che faccia un video, ma non sostituirà nessun video. Ancora cogliamo tutto. Vedete? Alcune, cioè quelle azzurre sono più grandi, vedete? E poi ci sono quelle blu che sono più piccole e più di questo non crescono, non so perché, comunque hanno due forme diverse. E ho notato che queste azzurre sono di meno come quantità rispetto a quelle blu. E quelle azzurre, sia quelle più grandi, si rompono anche più facilmente. Vedete? Vanno più fatica queste rompersi, guardate. Vedete? Scaspano. Rimangono. Vedete? ecco dopo mi toccherà raccogliere tutte le mie queste palline che mi sono sfuggite si sono sparse per la stanza ando scappando un po' qui inoltre la mia voce l'ha sentita un po' strana un po' diversa dal solito e a parte che il microfono non è direzionato verso la mia bocca ma poi ho anche tolto il filtro antipop per catturare meglio il suono di quello che sto facendo inoltre inoltre ci sto andando a sbattere continuamente ovviamente voi non lo non vedrete perchè per fortuna si possono tagliare le parti ma sto andando a sbattere di continuo con il mio anello con il microfono per fortuna lo sento solo io nelle cuffie ma vuolo risparmio comunque mi piace tantissimo pasticciare e usare tutte queste cose per esempio come il video che ho fatto sul kit scavo o appunto queste queste palline io ce le comprai tanto tempo fa però erano quelle lì quindi vedo delle bustine piccole 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 e dure e si devono mettere nell'acqua per poi farle diventare come le vedete queste qui invece sono già cresciute e messe nel barattolo che vi ho fatto vedere prima con del profumo serve appunto per profumare gli ambienti però io li sto usando per giocarci ovviamente